il rete fogliata americana camo system è una rete di facciale questa in particolare questo colore è per primi ali di tonalità chiara color sabbia per primi desertici la rete ha due possibilità questa è quella più scura la parte più scura e all'interno come possiamo vedere è più chiara quindi rigirandola assume una differente colorazione da utilizzare in base alla tipologia di ambiente la rete è antibatterica antimuffa la tramatura è molto leggera una rete molto leggera pratica comprimibile ingombra poco spazio si può piazzare ovunque sia in verticale che in orizzontale si possono utilizzare fascette oppure l'apposito cordino di varie colorazioni adeguato alle reti che andate a usare questo cordino particolare perché un paracord ha al suo interno dei fili in fibra di kevlar molto molto resistenti e longevi nel tempo e non è per niente elastico per cui resiste e si può montare bene le reti in qualunque posizione l'altezza è 2,40 m e poi viene venduta al metro lineare 2,40 m intesa ben tirata stesa non è per niente